ciao questo nuovo video che solito che faccio quando riesco a guardare qualche film nuovo che sono andato a vedermi madame web il film che è uscito il 14 di febbraio al cinema che anche se magari come genere ma è il solito reazione avventura un po magari fatta scienza magari come l'ho voluto morai andarmelo morai a recuperare come film anche si dura 1 e 47 ma di quello e 47 di minuti però ho visto che magari come film ci potevamo arrestare cioè quasi quasi due ore ha durato però magari come come film ho visto che magari anche se in molti ho visto che marello lo hanno mare anche lo hanno mare anche in molti ma lo hanno mare anche criticato come come film e brome magari nel complesso magari ci poteva mare anche ci poteva mare anche stare anche magari come 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 trama che magari logicamente magari qua qua in italia rispetto magari essendo un film un film un film magari americano arrivato un attimino dopo che qua in italia quelli americano americani arrivano sempre quei due tre mesi dopo però magari nel complesso magari come film a me mi ha tipo anche piaciuto che magari come il regista e questo è claire che son che magari certi attori li avevo già visti magari anche in altri film che più che altro magari come trama come trama di questo film magari è ambientato magari negli anni settanta nella forezza amazzonica peruviana che questa la scienziata costa costa un學ismo da parte da cap' ancora ragione sc mean valente ricetta questo ragno raggno agg içe capito in multi reggio questo ragno leggero che appena lotto va viene però tradita da questa è che ti da questa cosa e che i primi migliore di armi�io da questi mali e rani adesso usè nuova tribù che è dotata di questi mistici poteri da ragno che però fanno nasce una figlia nasce sua figlia Cassandra che 30 anni dopo New York Cassandra è una paramedica anafettiva la cui vita viene travolta quando in seguito a un incidente sviluppa il potere di vedere nel futuro e si ritroverà così a proteggere tre ragazze proprio da proteggere questi tre ragazzi proprio Ezekiel che nei sogni si vede ucciso da un trio di future supereroine che cerca in ogni mezzo magari di eliminarle mentre sono ancora giorni e senza potere che più che altro magari la trama di questo film e magari questa qua che magari come film nel compresso come amarei come amarei girato magari ci poteva magari ci poteva magari anche anche stare che che come che magari come ha girato così magari nel compresso magari magari da parte mia non è amarei così magari brutto come certe magari come ho sentito certe persone magari che ho sentito magari parlare di questo film che ho provato a leggere compresso magari con i film magari ci poteva magari anche stare che magari anche nei film che ci sono che c'erano stati magari anche questo questo anonimo magari personaggio dei frumetti del film che è basato più che altro questo su questo anonimo magari personaggio dei frumetti della la marvel della marvel della spider con questo spider man con il compresso magari come firma e magari ci poteva anche stare con questo regista che questo cleric sono che sempre che è un film come ho detto prima è sempre un film magari americano che magari come al solito quando faccio questi video su sui film magari lascio sempre come al solito magari il video trailer sotto magari descrizione e con magari anche il cast degli attori che hanno partecipato in questo film che c'erano magari degli attori che hanno partecipato in questo film che c'erano magari magari che ho già provato a vedere magari anche in altri certi attori li ho visti magari anche in altri film però nel compresso magari questo qua di madame web di madame web magari da parte mia ci poteva amare anche ci poteva ne compresso magari come ha fatto così ci poteva amare anche anche stare che sono riuscito ma che sono riuscito da da poco da poco il 14 di febbraio sono riuscito lo stesso magari andarmelo a a vedere che come film due ore quasi quelle due ore 1 e 55 quasi quasi due ore di film e niente che magari qualche informazioni in più qualche informazione in più sotto magari in descrizione se riesco magari a trovare qualcosa in più su questo film però adesso però visto che l'avevo riuscito magari ero riuscito ad andarmelo magari a vedere gli volevo proprio dedicare questo video e niente quello che potevo magari di questo film magari l'ho già detta al massimo ci vediamo sicuramente magari più avanti sempre sul mio canale con i miei soliti magari video che porto magari sul mio canale e niente per adesso magari vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao